La Motor Valley deve per forza evolversi nei prossimi anni. Ovvio che quando si pensa a Motor Valley sono più le supercar, però diciamo che c'è bisogno di fare intanto, creare la competenza e la conoscenza sul mondo dell'elettrificazione e in questo anche Flash Battery sta portando il suo contributo, partendo appunto dal basso. La Motor Valley ha bisogno di continuare a investire e ha bisogno anche di qualche produzione europea, soprattutto per quanto riguarda le celle che ad oggi in realtà siamo costretti ad acquistarle oltre l'oceano. Flash Battery si occupa di produrre batterie a litio per il mercato delle macchine, dei veicoli industriali e siamo partiti in un garage, è un'azienda che sta crescendo anche perché il mercato delle macchine agricole, ibride, macchine costruzioni, è tutto un mondo che si sta elettrificando e ha bisogno di un supporto e di competenze per poter crescere, partendo dal prototipo fino alla produzione in serie. Flash Battery, come dicevo, essendo focalizzato sull'industria, non puntiamo al mondo automotive che siamo convinti che si produrrà internamente le batterie, perciò il nostro focus è proprio prendere, tra virgolette, per mano i nostri clienti che sono stati sempre abituati a lavorare con motore endotermici e idraulica nel processo di elettrificazione suggerendo per quello che è più di nostra competenza perciò il pacchetto energia, batterie e caricabatterie.